Interquartieri di Muraglia si inaugura il 6 di aprile L'auditorium Scavolini si prepara al taglio del nastro Verso le elezioni, le percorso della lista, una città in comune A Uldergo Antonelli va l'Oscar della ristorazione 2024 A Montelabate una scultura dedicata al mondo del volontariato Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV Ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione di Rossini News Telegiornale che in questo martedì 27 febbraio apriamo occupandoci Di tre diverse opere pubbliche della città di Pesaro in via di completamento Parliamo della prima ovvero l'interquartiere di Muraglia Che dopo un anno e mezzo di lavori ha finalmente una data di inaugurazione Sarà il 6 aprile e come detto sarà una strada intitolata ad Enrico Berlinguer L'ho annunciato ieri in consiglio comunale il sindaco di Pesaro Matteo Ricci A margine dell'approvazione dell'aggiornamento della convenzione con società autostrade Implementata di 100 milioni di euro aggiuntivi Finanziamento che consentirà di completare le opere compensative In un cronoprogramma che una volta terminata l'interquartiere di Muraglia Vedrà procedere con la bretella di Santa Veneranda Il raddoppio dell'Urbinate e la bretella Fratelli Gamba Che dalla Montellabatese si collegherà all'attuale casello Ultima opera sarà il casello unidirezionale di Santa Veneranda Ed è invece molto più imminente davvero agli sgoccioli Il conto alla rovescia per il nuovo auditorium Scavolini Che da questa mattina ha issato anche l'insegna Che certifica il nuovo nome di quello che fu il vecchio hangar di Viale dei Partigiani Ultimi ritocchi dunque per l'inaugurazione di giovedì 29 febbraio A partire dalle 18 data del compleanno di Gioacchino Rossini Il programma prevede il taglio del nastro alla presenza del sottosegretario Al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi E di Walter Scavolini Uomo e imprenditore che ha portato il nome della città nel mondo Ci sarà un video emozionale a ripercorrere la storia del palazzetto E ad accogliere il pubblico La giornata di festa proseguirà poi tra poesia, musica E lo spettacolo multimediale realizzato dallo studio Stark Al termine dell'evento le porte dell'auditorium Torneranno a riaprirsi per ospitare Coloro che vorranno osservare la nuova veste dell'edificio Fino alle ore 21 E poi il giorno seguente, venerdì 1 marzo Sempre alle ore 21 L'auditorium ospiterà la cerimonia di consegna Di cittadinanza onoraria di Pesaro Al due volte campione mondiale di motociclismo Pecco Bagnaia Terza opera pubblica di cui parliamo Nonché la terza a vedere il traguardo Del completamento previsto a fine aprile È il Cavalcaferrovia De Sabata Che da questa notte comincerà i lavori Per la nuova asfaltatura Da questa sera alle 22 Fino alle 4 di mattina Il Cavalcavia rimarrà chiuso al transito tutte le notti Fino a sabato 2 marzo I prossimi interventi poi prevederanno La realizzazione del nuovo sistema di illuminazione Dei giunti E in ultimo la sistemazione dei pilastri Prima della restituzione definitiva Come detto, programmata per la fine di aprile Lasciamo le opere pubbliche Passiamo alla politica Giorni di attesa per dipanare le ultime decisioni Sul candidato a sindaco di Pesaro Per quello che riguarda la coalizione di centro-sinistra Una decisione che converge soprattutto sul partito democratico Ma non solo Come ci ricorda anche la lista civica Una città in comune La squadra è molto motivata Carica Abbiamo gente nuova anche rispetto alla scorsa tornata elettorale E c'è grande entusiasmo E questo mi fa un enorme piacere Per quanto riguarda la prossima tornata elettorale Noi abbiamo governato per questi anni con il centro-sinistra Abbiamo fatto una lista che si appresta ad affrontare la terza legislatura Ovviamente gli accordi si fanno con le persone e con i programmi Quindi aspettiamo di capire Quelli che saranno Quello che sarà il candidato sindaco Che proporrà in questo caso il PD Che è la forza di maggioranza Con il quale poi ci andremo a confrontare Andremo a discutere sui temi Che dovranno poi accompagnarci per i prossimi 5 anni Per quanto riguarda le primarie Positivo o negativo come le veda? Ma io vedo che se il candidato lo deve esprimere il PD Le primarie dovranno decidere loro se fare le primarie o meno So che c'era un accordo in precedenza Che non si sarebbero dovute fare le primarie all'interno del partito Però se decideranno di farle sarà una scelta loro Quello che è il mio pensiero Che non debbono essere primarie aperte a tutti Ma il candidato sindaco lo devono scegliere iscritti al PD Perché se io fossi il rappresentante di una della coalizione in contrapposizione con il centro-sinistra Manderei i miei a votare e sceglierei quello più debole Tatticamente è sbagliato Poi succede magari come è successo al PD nazionale Dove Bonaccini che aveva la maggioranza degli iscritti Poi è stato sconfitto magari da chi non era iscritto al PD E gli faceva più comodo avere la sliner rispetto a Bonaccini In termini di alleanze invece no La politica cambia, nuovi partiti, nuove alleanze Voi vi vedete quindi all'interno di questa giunta con questa coalizione qui? Noi ci vediamo all'interno di chi la pensa come noi ovviamente Non siamo obbligati a stare da una parte o dall'altra È chiaro il sentimento è quello di proseguire il progetto Noi però vogliamo viaggiare con chi la pensa come noi Se ci attaccano su quelli che sono i nostri temi come per esempio il parco Non si può stare con tutti, bisogna scegliere Pesaro, Fano, Urbino e fra poco di nuovo Pesaro All'orizzonte c'è il quarto weekend consecutivo di protesta dei trattori Che da giovedì sera torneranno a radunarsi in presidio a Pesaro Nel parcheggio di Largo Volontari del Sangue adiacente al Cinema Metropolis Venerdì mattina gli agricoltori si riuniranno in assemblea al centro socioculturale di via del 900 Dopodiché sabato mattina una delegazione di tre trattori Arriverà in piazza del popolo per effettuare volantinaggio Fra la cittadinanza in merito alle ragioni della mobilitazione Ed ora una segnalazione per il mondo sanitario Perché dal 4 marzo la distribuzione dei farmaci per le terapie erogate ai pazienti cronici di Pesaro Verrà trasferita dall'attuale punto erogante di via Alfano a Villa San Martino Alla farmacia di via Lombroso interna al presidio ospedaliero di Muraglia Lo comunica l'azienda sanitaria territoriale Con la finalità di centralizzare in un punto unico di distribuzione Tutti i farmaci erogati in dimissione post visita specialistica e i cronici sul territorio Una pratica già effettuata a Fano E che dal 4 marzo sarà operativa anche a Pesaro E proprio un edificio dell'azienda sanitaria territoriale è stato al centro anche di una segnalazione Che vi abbiamo mostrato lo scorso novembre e che ha avuto nuovi sviluppi in questi giorni Vediamo L'8 novembre scorso Rossini TV accendeva le sue telecamere su un problema di incuria Segnalato nella principale strada della frazione pesarese di Case Bruciate In questi giorni dopo mesi di attesa è iniziata l'auspicata manutenzione del verde Con intervento di ripollitura di un terreno di proprietà dell'azienda sanitaria territoriale Ed è relativo stabile e ridotto a rudere riconducibile alla regione Sul tema si attivò fin da subito la consigliera regionale Michela Vitri E dopo vari solleciti da ieri è iniziata la bonifica torna a rudere Trasformatosi in questi mesi in un nido di rovi e sterpaglie Divenuto rifugio di topi e arrivato a coprire il guardrail della strada Ho informato l'azienda sanitaria territoriale Abbiamo scoperto che questo terreno è stato affittato ad un privato della zona Che però inizialmente si rifiutava di provvedere all'ordinaria manutenzione Quindi dopo diversi solleciti finalmente l'azienda sanitaria mi ha comunicato Che proprio questo lunedì sono iniziati i lavori di manutenzione, di pulizia E sono andata a verificare io stesso Visto che finalmente è fermato il decoro in quel terreno Rimane però oltre alla manutenzione ordinaria Che è un dovere per qualunque pubblico e privato Il tema dell'immobile lasciato in stato di migrato Si tratta di un immobile che era stato donato alla regione Da fedeli salvatori e che potrebbe ospitare anche degli uffici, degli ambulatori Comunque è un immobile importante di proprietà dell'azienda sanitaria Che non è stato preso in considerazione per essere riqualificato Grazie ai fondi PNRR e quindi penso si sia persa un'occasione importante Ad esempio mi sono permessa di dire che poteva essere un immobile Adatto ad ospitare la centrale operativa territoriale Che viene interamente finanziata con fondi PNRR Ancora l'immobile è lasciato in stato di abbandono Quindi sollecito la regione a non trascurarlo A fartene carico e a valutarlo per una riqualificazione adeguata E probabilmente anche per ospitare uffici e ambulatori Collezioni private di libri a disposizione della fruizione culturale pubblica dell'intera città Va in questa direzione la proposta avanzata ieri in Consiglio Comunale a Pesaro Da Michele Redaelli e che ha visto la sua approvazione all'unanimità Abbiamo ideato un provvedimento che ha l'obiettivo di andare ad incentivare il sistema bibliotecario La fruizione dei libri e incentivare chi come privati cittadini o associazioni o realtà della nostra città Mettono in qualche modo a disposizione della collettività il proprio patrimonio librario Rendendo in qualche modo pubbliche le loro collezioni Un incentivo fatto tramite una detassazione di quelle realtà Che metteranno a disposizione gli spazi privati Per un uso pubblico e una diffusione pubblica del patrimonio librario Questo lavoro è un lavoro che continua, che continua da tempo Già mi ero occupato del sistema delle biblioteche Così come avevo proposto il tema della biblioteca diffusa Della possibilità quindi di condividere da parte dei cittadini I propri patrimoni, i propri libri Per fare in modo che si possa creare una vera e propria rete di diffusione Di condivisione di quello che è un vero patrimonio culturale Questo provvedimento è proprio l'idea, il tentativo di dare forza a questo slancio Anche amministrativo e anche dal punto di vista di un sostegno economico A quelle realtà e ce ne sono diverse in città già virtuose Così come ce ne possono essere altre tante che possono essere coinvolte in questa rete Di una diffusione dal basso della cultura, della promozione alla lettura E di uno scambio che arricchisce tutti e arricchisce la nostra città e il nostro territorio Ed ora vi mostriamo le immagini della seconda edizione dell'Oscar della ristorazione Tenuto Sighieri all'alberghiero Santa Marta di Pesaro In una kermess promossa dall'Associazione Ristoratori di Confcommercio Ad aggiudicarsi il riconoscimento per il 2024 Un decano della ristorazione pesarese Comuldergo Antonelli Amiche e amici di Rossini 2 abbiamo assistito questa sera a una bellissima serata Un omaggio alla ristorazione L'Oscar A chi si è dedicato per più di 50 anni alla ristorazione Quindi alla conservazione delle ricette e di tutte le tradizioni conviviali della nostra provincia Non solo perché Uldergo è partito da Pesaro E' andato oltre, ha portato all'estero le nostre tradizioni gastronomiche E poi è ritornato per non perdere proprio quel legame con la sua terra Sono veramente orgoglioso perché dopo 50 anni di attività mi fa veramente piacere Anche perché poi vedo che sta ritornando proprio tutto quello che all'inizio noi facevamo Nel senso che facevamo la cucina tradizionale Adesso sta tornando la cucina tradizionale Poi magari ancora ho entusiasmo di stare in mezzo alla gente Mi piace e quella è un'altra cosa che mi dà tanto orgoglio Poi ho anche l'orgoglio che mio figlio ha intrapreso la mia carriera Anzi mi ha fregato perché io ho aperto 10 ristoranti Lui è direttore di 20 ristoranti a New York E allora no, le tradizioni Poi ho mia figlia con me in sala Una serie di cose che mi fanno veramente tanto piacere e tanto orgoglio Siamo veramente contenti di ospitare questa seconda edizione Che Ascom ha scelto noi, la Confcommercio E quindi volentieri Anche perché io come ho detto ai ragazzi Probabilmente ci saranno i futuri datori di lavoro vostri E quindi ecco è un modo per mettersi alla prova E sono sicuro che i ragazzi non deluderanno È un riconoscimento importante l'Oscar della ristorazione Soprattutto dato a Uldergo Che penso che per Pesaro sia stato uno dei pionieri di Pesaro Perché se ricordiamo il suo passato da Carlo in avanti Insomma ha fatto un po' la storia della ristorazione Visto che ancora è in attività E anche bello orzilla, bello sveglio E ancora si mangia molto bene Quindi mi sembra giusto riconoscere di qualcosa Che per Pesaro e la nostra provincia ha fatto molto Nel corso, la prima edizione dell'Oscar della ristorazione Abbiamo premiato Rolando Il motto era scimmiottando raspelli Le 3T Terra, tradizione e territorio Perché Rolando aveva inventato la cucina di allettare Una cucina di terra Valorizzando i prodotti del nostro territorio E ricollegandosi alla tradizione Quest'anno abbiamo pensato invece alle 3M Mare, memoria e marchigianità E chi meglio di Uldergo rappresenta la cucina di mare Tradizionale, quindi la marchigianità Chi meglio di Uldergo e di sua moglie Oriana Rappresentano anche la memoria Le ricette tradizionali della cucina marinara pesarese E la marchigianità non solo per il collegamento con la tradizione Ma anche perché rappresenta Uldergo il marchigiano Il marchigiano tenace, lavoratore 52 anni di attività come ristoratore Ma non solo a Pesaro Cioè uno che ha lavorato come cameriere Poi ha gestito per 22 anni il ristorante Poi ha aperto altri ristoranti in giro per l'Italia e all'estero Con il cuore però a Pesaro Ritornare a Pesaro Questo è il marchigiano E non a caso è ritornato a riaprire il ristorante Dove è iniziata la sua attività Che era il famoso ristorante da Carlo Un altro motivo poi, debbo dire Uldergo è stato uno dei fondatori Dell'associazione Ristoratori di Confcommercio Nel 1994 è nata Dopo tante serate Ah, tante notti A fare le ore piccole di mattina A bere nei ristoranti Per creare questa associazione Insieme a, purtroppo, amici che non sono più con noi Penso a Franco Ridolfi, penso a Renato Pinto Valentino Ortolani, Gianni Caerano Ecco, Uldergo era uno di questi Che mi ha aiutato a creare l'associazione Ristoratori Noi abbiamo formato l'associazione Ristoratori Eravamo un gruppo, siamo ancora Però molti di noi che seguivamo queste tradizioni Queste non ci sono più Però è rimasta la loro scuola E allora quello mi fa molto piacere Continuare quello che avevamo fatto insieme E da questo servizio all'alberghiero Santa Marta Passiamo ad una importante opportunità di lavoro Proprio nel settore alberghiero Ovvero quella proposta dal gruppo Lindberg Hotel & Resort Che organizza un Recruiting Day 2024 Dedicato alla selezione di nuovo personale Per la stagione 2024 Da impiegare nelle tre strutture del gruppo a Pesaro Ovvero il 5 stelle Excelsior E 4 stelle Nautilus e Charlie in Pesaro Il gruppo Lindbergh è alla ricerca di addetti Da inserire nei riparti sala, cucina, piani Spa, spiaggia, ricevimento e commerciale L'open day si terrà sabato 9 marzo Dalle 10 alle 18 presso l'hotel Charlie in Pesaro Nel comune di Vallefoglie sono invece terminati I lavori per la realizzazione della nuova area di servizio Di scarico e carico per i camper in via Lucio Fontana Nella zona adiacente al centro commerciale Arcobaleno Il progetto ha previsto il montaggio di griglie in acciaio inox Per lo scarico delle acque grigie e nere dei camper Nella colonna di servizio che rileva mediante fotocellula Il mezzo di entrata e uscita Il sistema di scarico delle cassette estraibili E i servizi idrici di pulizia e rifornimento Parliamo di cultura e in particolare di musica Ovvero di Laura Pausini Che tornerà ad esibirsi a Pesaro La popolare cantante ha infatti annunciato Le date del suo Winter Tour 2023-2024 E il 23 novembre sarà alla Vitri Frigo Arena di Pesaro Per i membri del fan club ufficiale I biglietti saranno in vendita dalle ore 11 di domani 28 febbraio Per coloro che invece non sono membri del fan club Biglietti in vendita a partire dal 1 marzo Ed ora andiamo a vedere un servizio che viene da Monte Labate Dove il comune ha voluto dedicare una nuova installazione artistica In onore della protezione civile E dei tanti volontari che si spedono quotidianamente per il bene della comunità Si chiama Il Volontario La scultura che dallo scorso fine settimana È stata inaugurata all'interno di una rotatoria di Osteria Nuova Nel comune di Monte Labate A realizzarlo il giovane artista Riccardo Leador Venturi Che ha risposto alla volontà del sindaco Cinziaferri Di trovare una comunicazione artistica Per ringraziare i tanti cittadini di Monte Labate Che si spedono quotidianamente in azioni di volontariato A sostegno della cittadinanza È dedicata ai volontari A tutti i volontari che operano generalmente Ma principalmente quest'idea mi è nata Nel poter ringraziare i volontari della protezione civile Prima e della Croce Rossa Successivamente per aver sostenuto il comune di Monte Labate Ed essere stato effettivamente il braccio operativo nel periodo del Covid Grazie a loro siamo riusciti a portare sollievo in tutte le famiglie L'opera è simbolicamente posizionata attorno ad un pesco nascente Albero simbolo della produzione agroalimentare ed eccellenza di Monte Labate La domanda che mi sono posto è che colore può avere un volontario E tra tutti i colori che dispone una tavolozza Ho scelto il magenta che è un colore primario Proprio perché secondo me trovo nella scelta di dedicare Di fermare la propria vita a persone che non si conoscono E una chiave umana a cui tutti dovremo ispirarsi o comunque mirare Nel mio caso volevo realizzare delle strutture Che dialogassero appunto con un singolo albero Un albero giovane in realtà che ancora deve crescere Proprio perché volevo che insomma crescesse proprio in questa terra In questo territorio E in questo caso le strutture vanno a dare l'acqua al pesco Quando piove Mentre invece la metafora, l'aspetto più poetico Era quello di questi fiori di pesco Che quando vanno a perdere questi petali su queste mappe Sono diciamo nuovi volontari che vanno ad aggiungersi al territorio La parola volontario a volte viene usata anche impropriamente Ma in realtà nelle piccole comunità come può essere quella di Monte Labate Ci sono tanti volontari che operano Dalla protezione civile alla Croce Rossa All'Associazione Combattenti Reduci che è quella che organizza tutte le manifestazioni Di ricorrenza storica Alla banda che anche loro prestano servizio Quindi abbiamo tantissime realtà di associazioni di volontariato Ed è giusto quindi ricompensarle almeno con un'opera E poi voglio dire questa cosa Che le opere d'arte rimangono nella storia E' per questo che ho voluto che venisse fatta un'opera d'arte Perché così nella storia rimarrà il ricordo di ogni singolo volontario E si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News Però in questo martedì continuano gli spazi informativi Sulla nostra emittente perché alle 21 e 20 c'è l'appuntamento settimanale Con amministrando format di avvicinamento alle elezioni 2024 In questo caso condotto dal nostro Antonio Astuti Che ha avuto come ospite l'assessore del Comune di Pesaro Assessore alla sostenibilità ed esponente di Europa Verde Maria Rosa Conti E il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro Esponente della Lega Andrea Marchionni Come detto appuntamento alle 21 e 20 Poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV Torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 Con la rassegna stampa Buongiorno Rossini Che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi E poi domani come ogni lunedì, mercoledì e venerdì E' partito da questa settimana il magazine La Natura della Cultura Tanti spazi informativi legati a questo anno 2024 di Pesaro Capitale Italiana della Cultura Appuntamenti che avvengono in queste tre giornate Il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 8.10, 13.10 e 20.10 E poi il riassunto della settimana previsto il sabato alle 12.10 e 19.10 E la domenica alle 15.10 e 21.10 Ed è davvero tutto per questa sera Si conclude qui Rossini News E vi ringrazio per averci seguito E vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi E vi ringrazio per averci seguito